Dal diario di Santa Faustina Kovasca è la più gloria a Dio che molte ore è passate nel godimento di consolazioni durante la preghiera. Ora vedo che, se Dio vuole tenere un'anima nelle tenebre, nessun libro né alcun confessore riuscirà ad illuminarla. Santa Faustina Kovasca prega per noi e per il mondo intero. Gesù, io confido in te.